buonasera amici ascoltatori da camarello punto luce buonasera andrea liotta dai microfoni di sport partita di cartello stasera deportivo la carogna contro partizana de grado due amici due compagni di squadra contro lillo calabro e ciccio vasta che si abbracciano grado che attaccherà da destra verso sinistra in casacca bianca il punto di battuta lo faro conclusione forte respinta balla che resta lì lombardo e poi sulla linea salva cannavo intanto seguiamo cannavo dentro per liruccio di tacco porta avanti il pallone e non arriva sbaglia taranto la rimessa c'è comandè tutto solo e poi prova un filtrante prova l'1-2 con comandè con l'ignora ancora dentro per antonio cannavo cerca lo spazio col mancino pallonetto secondo palo e c'è la chiusura volante di lombardo tutto regolare per il direttore di gara è andato alla pare gioco il deportivo calabro occhio al destro in corsa breve va alla rocca destro e una bomba deviata calcio d'angolo intanto fra capone e fa un gol bellissimo salta agli avversari come birilli e poi la piazza col mancino alla destra di taranto e il gol dell'1-0 deportivo grande gol intanto seguiamo il calcio piazzato da lontano numero 17 amendola pronto a partire ed è un bolide di rara potenza preciso batte taranto per il 2-0 del deportivo la carogna all'intervallo qui a camarello di una partita importante quella tra il deportivo la carogna e l'fc parti zanna di grado per me è un onore essere con mio fratello linuccio cannavo linuccio stai giocando forte anche stasera però ancora non è arrivato il gol però la classifica capo cannonieri dice chiaramente che sia al secondo posto sì ma la vuoi vincere tu questa classifica? ma sicuramente anzi lo spero dico darò tutto me stesso i miei compagni altrettanto mi daranno prima è mancata una grande occasione sul destro però mi dicono dalla panchina qua che purtroppo un difetto che il mio destro però però il mancino copre tutti gli errori del destro è normale dobbiamo coprire da qualche parte ci dobbiamo aiutare ma senti una cosa l'ultima domanda questa deportivo la carogna veramente sembra la squadra accreditata a vincere il titolo lo so che vorrei vorresti essere diplomatico in questo momento ma la verità mi devi dire siete davvero una squadra imbattibile o c'è qualche squadra che vi potrà dare fastidio secondo te? secondo me per quello che ho visto fino ad oggi penso che siamo una squadra proprio imbattibile queste sono risposte da campione queste sono risposte da uno che vuole vincere la classifica capo cannonieri dico lo spero di continuare sempre così poi la strada è accettata io ti voglio fare una cosa domanda stavolta da farsi in dialetto ma ma tuo cucino sta perdendo coppa? ma da sempre perde colpi lui poi giustamente quando giochiamo insieme sei tu che riesci a sovrastarlo? non lo so c'è qualcosa che non ci rende negativi da camarello solo per adesso è tutto è stato un piacere con l'inuncio che andiamo a tra poco per l'inizio del secondo tempo tra Deportivo, La Carogna ed FC Partizan e De Grado a tra poco tutto per la ripresa è stato un primo tempo all'insegna dell'equilibrio almeno nella parte iniziale, centrale proprio il gallo, destro, mamma mia, l'ha spaccata la porta, palo pieno non la fa abbassare, c'è ancora Mazzeo che si ripropone, conclusione e la Rosa col piede la tiene lì, cento ancora, pallonetto a seguire per Daniele Longone sul secondo palo, comandè, grande aggancio appoggia dietro, il gallo, finta di corpo provo a liberare il destro, va giù, calcio di rigore beh in corsa breve, finta destro e Taranto la blocca laterale, già battuta lo farò dentro c'è la rocca, ancora la Rosa si oppone poi la palla resta lì, altra conclusione tanto c'è il gallo, entra in area di rigore finta il tiro, pallonetto e c'è un fallo di mano sull'appunto di battuta va il gallo Cannavo destro e ancora Taranto ancora Andrea Taranto quando eravamo piccoli lo chiamavamo Benji Price ci sarà un motivo, hai abbassato la Sara Cinesca speriamo che non me la stai cuffando che ora sono già in avanti non vorrei che lo prenda adesso sì c'è il gallo, guarda come ti guarda non vede l'ora di fare gol questa è la classica cuffata che andrebbe a striscia grande Taranto altra palla regalata ancora il gallo dentro l'aria salta Taranto ma stavolta c'è basta stavolta c'è basta ancora Cannavo dentro Amendolo ancora servito sul mancino finta rientra sul destro tocca sull'esterno Cannavo in mezzo per Linuccio che non può sbagliare da lì 3-0 Deportivo sigla il suo quinto gol in questa Seven League Linuccio Cannavo una sentenza Faro per Mazzeo ancora lo Faro Lombardo c'è un contatto calcio di punizione attenzione perché quella è una zona pericolosa già battuta Mazzeo non trova di un soffio l'angolino alle sole di La Rosa lunga rincorsa bam sotto l'incrocio La Rocca rimette la sua squadra in partita è 3-1 che bomba e che precisione sposta le ragnatele della porta di Cicciola Rosa e occhio al Partizan che non molla mai tanto dentro il pallone Fragapane e Rete ci pezza lui sempre il Fraga sul binario di sinistra non ci sono rivali parte velocissimo controlla il pallone poi di precisione lo appoggia alle spalle di Taranto il gol delle A4-1 finiamo questo calcio d'angolo già battuto e c'è il gol di Lombardo 4-2 colpevole la difesa del Deportivo in 4 hanno lasciato solo l'unico uomo al centro dell'area Lombardo non sbaglia appoggia sulla destra dove c'è Libero per la conclusione a Mendole e poi clamoroso errore riesce a saltare secco l'avversario ne salta un altro Ignona Fra Capane poi lo serve in maniera splendida e poi ancora Taranto Taranto che cosa ha preso speciale questa parata di Andrea Taranto conclusione la Rocca non trattiene e c'è la golla del 4-3 proprio nella finale di partita Lombardo fa doppietta tutto regolare occhio alla ripartenza c'è il gallo Taranto in versione stopper il gallo ancora insiste destro e palo palo clamoroso non riesce a segnare Cannavò ancora però insiste il deportivo pallonetto in mezzo all'aria colpo di testa alto clamorosa palla goal clamorosa pronto boom traversa traversa colpito la Rocca e finiscono e finiscono qui le speranze di un generosissimo strepitoso partizan che per poco non fa le scarpe a un deportivo sciupone che nel secondo tempo avrebbe potuto siglare anche 10 gol ma grande grandissimo spettacolo grandissimo agonismo qui a Camarello è stata una partita meravigliosa soprattutto nei minuti finali ricordiamo il finale da Camarello deportivo la Carogna batte partizan a degrado verrà 4 a 3 linea alla regia